Passato di qua prima ho visto una cosa strana in mezzo all'erba ci passo spesso di qualche, ci passo per lavoro però ho visto una cosa strana quindi ho pensato di riprenderla andiamo a vedere non mi ricordo bene anche la pizza ero nell'erba da questi fatti che cazzo è? che cazzo è? che cazzo è? se verrebbe tipo un ramo non lo so vediamo se troviamo qualcosa qua per poterlo toccare però credo ovviamente non vuole mani che cazzo è? ma sarà morto? penso di si perchè poi è anche immobile vediamo se troviamo qualcosa qua faccio qualcosa qua che cazzo è? 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 vedo se riesco a prenderlo in qualche modo, vedo se ci riesco, non so ne vedi se posso toccarlo con le mani